Riki disabilita i profili social. Parla Francesco Facchinetti Questo sembra non essere un bellissimo periodo per il popolare cantante Riccardo Marcuzzo. . Ma da lì a poco ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena, che ha ancora di più preoccupato gli estimatori del cantautore Riki. Cosa altro è successo? Tutti i suoi profili social sono stati improvvisamente disattivati, facendo serpeggiare l'idea nei suoi supporter che possa essere stato vittima di un hacker. Di fatti non sarebbe neppure la prima volta che un personaggio così popolare venga preso di mira da un pirata informatico. Tuttavia le cose non sono andate esattamente in questo modo, e dopo tanto parlare ci ha pensato il manager Francesco Facchinetti a chiarire la situazione, rivelando. In pratica il giovane cantante della sedicesima edizione di Amici, disabilitando i suoi profili, ha voluto semplicemente staccare la spina, dedicandosi più a se stesso. Riuscirà il ragazzo a superare questo difficile momento? Riccardo Marcuzzo in crisi. La spiegazione di Francesco Facchinetti periodo difficile per il cantante amato dalle ragazzine Riki. Il giovane, infatti, qualche ora fa sì è sfogato duramente sul popolare social network fotografico Instagram, asserendo di essere stanco e di non voler partecipare più a nessun evento se non quello in piazza del Duomo a Milano previsto fra una decina di giorni circa. Uno sfogo, che non è certo passato inosservato ai suoi tantissimi fan, i quali si sono subito preoccupati. Preoccupazione salita fino alle stelle quando nelle ore successive i profili social di Riccardo Marcuzzo sono stati disattivati improvvisamente. Motivo per cui in tanti, hanno pensato che il ragazzo della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi possa essere caduto nelle grinfie di qualche hacker senza alcun scrupolo, il quale avrebbe potuto disattivare i suoi profili solo per dispetto. Ma così non è stato, e ci ha pensato il suo manager Francesco Facchinetti a rivelare che la scelta di disattivare i social sia stata sola ed esclusivamente del ragazzo. Difatti, in base a ciò che ha detto Facchinetti, Riccardo Marcuzzo ha voluto prendersi una pausa da tutto per ricaricare le pive.